Qui ne avete due? Due di solito. Una e una. Ok. Tutti i lotti hanno dodici orti, sono dotati di due... Ogni lotti hanno dodici orti, la maggior parte. La maggior parte dei due pozzi che vanno a prendere l'acqua nella falda. No, no, non lo svitare. Fa lo stesso. No, 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 vai. Perché adesso è stato chiuso la... È stato chiuso la... Ok. Opa. Se vuoi firmare la tana del ramaro, ci metterò un'etichetta. Adesso non c'è. Guardate, questa è la tana del ramaro. Bellissimo. Il ramaro è stupendo. È bellissimo. È un animale incredibile il ramaro. E innaffiamo i porri che abbiamo appena piantato. La gerbera. Ti vedete come in un battibaleno i porri hanno cambiato casa. Poveri porri. Stavano meglio prima, però. No, no. Qui è un orto di arte e cultura. Bravo, bravo. Guardate che bello questo orto di Simona. Grazie.